Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele Colnaghi e vi do il benvenuto all'interno del mio canale Oggi andiamo a parlare di un'azienda magnifica che ha deciso di credere nel mio progetto Quindi grazie mille Italian Cricket Farm Come vedete davanti a me uno scatolone pieno zeppo di insetti e cibo vivo per tutti quanti i miei rettiloni che ci sono all'interno della struttura Li voglio ringraziare doppiamente perché sono stati super gentili con me ma super gentili anche con voi Infatti da oggi o meglio se mi seguite su Instagram e i vari social se non lo fate vi lascio il link qui in parte vi raccomando andate a spiarli Vedete i miei vari nomi piuttosto che i link in descrizione Hanno lasciato un mega sconto per voi del 10% su tutti i prodotti della loro linea che vi lascio in descrizione Quindi MIKI10 semplicissimo e avete un 10% Lo mettete nel carrello e nel momento in cui fate l'acquisto appunto vi verranno detratti questo 10% dal totale Adesso basta parlare andiamo a unboxare la mia super mega box di grilli eccetera eccetera Dato dai ragazzi Italian Cricket Farm Deve arrivarmi un altro box e quindi faremo un secondo video per loro Ciao ciao piccole info Allora prima cosa Blatte Ho preso 50 blatte dubbia adulte E mi sono appena appunto arrivate nel box Tempo di spostarle e le metto nel contenitore giusto Poi continuiamo con 250 Aketa Small Che mi servono appunto per i baby che vedete qui in parte perché li ho finiti E quindi visto che adesso mi aiutano e pubblicizzano e sponsorizzano quello che è la mia realtà Grazie mille anche per queste Continuiamo con altri 250 grilli Ma questa volta è me quindi medi perché così riesco a avere un pochino di scorta E non devo ordinarli ogni settimana ma passeranno almeno 10 giorni da un ordine all'altro Quindi anche per questi grazie mille E concludiamo con gli animali quindi il cibo vivo Con 500 grilli Aketa adulti Logicamente tutte queste tre box le ho acquistate io Quindi grazie mille per il favore e il piacere che mi avete fatto nella spedizione Nella velocità e anche nei prezzi perché siete stati davvero davvero speciali Quindi grazie nuovamente Dirò grazie 20.000 volte però dai avete capito Credono in me e è giusto anche far vedere che ci siamo E fatevi vedere anche voi Come ripeto codice sconto e ce l'avete anche in descrizione Una volta parlato di tutto ciò che ho acquistato Andiamo a parlare delle due componenti omaggio che loro mi hanno dato Quindi di nuovo grazie mille davvero di cuore Prima cosa grilli 100% Aketa Power Dust 60% di proteine che aiutano l'alimentazione del nostro animale 100% farina di grillo Super naturale super positivo per i nostri animali Quindi grazie davvero per questo piccolo pezzerino Che adesso appoggio qua sopra Finiamo poi con un altro omaggio fatto da loro Quindi cibo per i grilli Cibo che mi servirà per fare un video descrittivo di come tenere i grilli E come allevarli Spoiler perché questo video arriverà grazie a Italian Cricket Farm Che ci aiuteranno appunto nei prossimi video Detto questo io ragazzi per questo unboxing direi che abbiamo terminato Sarà un video abbastanza breve ma volevo ringraziarli davvero di cuore Perché sono stati super gentili, super disponibili E in meno di 24 ore avevo tutti quanti questi animali Questi prodotti che mi servivano all'interno dell'allevamento Quindi davvero fulmini tempestivi e soprattutto animali di qualità Li ho già comprati da loro in passato Mi servo molto spesso da loro E fortunatamente per caso ci siamo incrociati E è partita questa grande realtà Ossia questo gran progetto in cui loro credono Quindi non deludiamoli Vi raccomando come sempre vi ricordo di Intanto metto giù il cibo Mettere un mi piace Iscrivervi al canale Attivare la campanellina Che sono tre sciocchezze che aiutano tantissimo il canale E come vi voglio ripetere anche alla fine del video Usate il codice Perché a me non viene in tasca niente Ma a voi si Nel senso che risparmiate Quindi i primi soldi guadagnati sono quelli risparmiati Ragazzi io li faccio pubblicità E li portiamo nei video Molto spesso Li presenteremo eccetera eccetera Voi però usufruite di questo codice Visto che mi sono sbattuto per farvelo ottenere Detto questo Noi ci vediamo al prossimo video Grazie mille a tutti quanti per l'attenzione Grazie mille a tutti